Buongiorno se non mi... Sì, buongiorno. Allora, io ho comprato un vostro pacco di biscotti e quando l'ho aperto dentro ci ho trovato un biglietto che ho scritto tra sette giorni morirai. Poi l'ho guardato meglio e ho scoperto che erano i De Ringo. Sarà stato uno scherzo di Samara Morgan. Buongiorno, grazie per averci contattato. Come la posso invitare? Sì, ciao, buongiorno. Più che altro volevo una curiosità. Io ho comprato un pacchetto di camel e volevo sapere perché invece del camel ha raffigurato un dromedario. Non glielo so dire. Però è vero, è così perché il camel ha due gobbe e il dromedario c'è uno di gobba. Quindi eventualmente le sigarette si dovevano chiamare o dromedal oppure camel, ma metterci un camel al posto del dromedario. Volevo sapere se magari era un errore di stampa o come mai era stata fatta questa scelta. Pronto? Un attimo solo, per favore. Ok, mi scusi. Ok, non abbiamo informazioni in merito al design dei pacchetti. Ah, no, non avete. Ok, perfetto. Grazie, va bene così. Grazie mille. Grazie a lei, buona giornata. Volevo il manito, ma come puoi speditarla? Sì, salve, buongiorno. Io più che altro avevo una curiosità. Ho comprato uno dei vostri prodotti omino bianco. Sì? E volevo sapere, come mai l'omino è nero e ha la maglietta bianca? Se si chiama omino bianco. L'omino ha la maglietta bianca perché è il simbolo del nostro brand. Omino bianco non significa che il prodotto si può usare solo sui capi bianchi. No, no, no. È una questione di logo, signore. Lei, la prossima volta, deve semplicemente leggere le istruzioni e le modalità di utilizzo dove si può capire se c'è tipo di capi utilizzato. No, no. Io dicevo, in quanto al logo, no? Voi vi chiamate omino bianco. Però l'omino raffigurato nel logo è nero. È un logo. Io non so adesso come poterve dare spiegazioni. È un logo. L'omino l'hanno disegnato di nero. Il designer ha deciso di disegnarlo di nero. Eh, era quella la mia curiosità. Potevano farlo omino bianco e la maglietta nera oppure chiamarla maglietta bianca invece che omino nero, insomma. Certo, faccio presente il tuo parere, d'accordo? Ok, perfetto. La ringrazio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.